Tu porrai fine a ciò che hai cominciato Sarà fatto Ragazze, ragazzi, rieccoci qua sull'Umba della Guerra Insieme alla nostra Elfa di Fiducia Continuiamo questo DLC Dovevamo uccidere Talion invece alla fine ci ha convinto a non farlo E stiamo facendo, in sostanza, le solite cose che facciamo Che facevamo già anche prima Cioè, reclutare orchi, anche se lei non domina Lei usa la luce Come arma Vediamo, adesso stavo andando verso la missione principale Dobbiamo, mi sa, difendere la fortezza Una forza d'assalto si sta radunando a Sirith Ungol Preparate a difendere la fortezza Vabbè Difendiamo Ah, quelli sì, li abbiamo reclutati Ecco che un nuovo potere nasce a Mordor Oggi Proprio ora Il Senza Morte affronta un enorme esercito alle porte di Serebost La sua armata cadrà E nessuno aiuterà né voi Nella banda di disperati che avete arruolato Non avete idea di quello che vi aspetta Siete... Oh, mi divertirò a vederli falcediare dagli arcieri che ho addestrato Questo esercito non farà altro che infrangersi contro le mie mura I figli di Shilop faranno la loro parte E io sarò insieme a loro Fa un po' ridere Oh, cappellino Allora, uccidiamo il capitano prima Non riesco... Eccolo, eccolo Vediamo Andiamo sempre Perimetro violato Sì, sì, ma... Ok, fammi vedere, va Vulnerabile dalla furtività Cagionevole Mangiume per bestie Confuso dalla furtività Vabbè, però è ferito dall'esecuzione Mi va bene Va già Andiamo Ok Ok Volevo... Ah, è immune alla luce Ah, è immune alla luce Va bene Useremo Altro Anzi, è già morto Ok Decapitato Molto bene Arrivano altri due Sì, la difesa l'ho fatta una volta Mi pare Aspetta che vi curo Insomma E mi curo io Stiamo qua un attimo Ah, va che sta arrivando qui Sta arrivando qui Eccolo qua Aspetta, dov'è? Eccolo Quelle lingue di fuoco Ti leccheranno il corpo E ti faranno bollire il sangue Vulnerabile alle esecuzioni Ok Ferito dalla luce Questo invece è la luce Da fastidio Preso Ok Durato Durato poco Vediamo Ah, è immune alle frecce Caracca È adattamento Vabbè Eh, però è Ah, è immune alle frecce Scusate Allora facciamo così Ah, già Anche, è vero Confuso Eh, cavolo Aspetta, sanguinante Chi? Eh, uno là in fondo Aspetta Come posso prenderlo? Ah, questo è morto Ah, è morto anche questo Boh Ecco Aspetta che vado a curare Quello là Un attimo Prossima ondata Eh, arrivo Eh, arrivo Arrivo Che avevo preso L'abilità Di cura Generale Vediamo se facciamo Vediamo se facciamo in tempo Sì Non funziona Ah, così Devo comunque fare Ok, ok Eh, mi sono allontanato Un attimo Ovviamente Corno qua Devo comunque Come se li dominassi No Ok Eh, circondata Semmai No Non ci provare Darmi la testata Ma grande Lui Li sta ammazzando tutti L'architetto Eh, vulnerare Attacchi di luce Ok Paura dei graug Ok Non mi impedirà Di tagliarti Via il cuore Quest'altro Paura del veleno Va bene Oh Aspetta Ricuriamo tutti Non capisce niente Come al solito Vai Vi acceco Si prova Almeno Porca Che mi ha preso Questo è morto No Adesso si Ok Ok Chi manca A questo sanguinante Oh Così Ok Morto Si Ok Ok Chi altro deve arrivare Basta Ok Abbiamo perso Abbiamo perso Sereghost Secondo te Loro C'entrano qualcosa È diventato un incapace Talion Ma dai Come la tua Umanità Indossi un anello Da Nazgul Eppure Non ne sei degno E dunque Presto sarà Nostro Così Come lo sarà Quello del fabbro Nemmeno Nemmeno lo scuro signore È riuscito a prenderlo Voi che speranze avete Lo scuro signore È con lui Anche il fabbro Bruciano In cima Baradur Il re stregone È debole Noi Siamo il futuro C'è dei Nazgul femmina Ma dai Sterminatore Ehi Vamina Smorgul E accertati Che sia al sicuro Non siamo in grado Di riprenderci Sereghost Ma come Ma cosa stai dicendo Cioè E allora La ridurrò In cenere Eravamo Tanto fieri A fine Fine Del gioco Ok Un po' di Roba Aspetta Tutto abilità Ottenuto Allora Personaggio Eh Ho tre punti Abilità Che cavolo Prendo Non mi serve Nulla Non mi serve Nulla Poi Vabbè Dai Prendiamo Questa Sblocchiamole Tutte Dai Sblocchiamole Tutte Ok Poi Inventario Facciamo così Rimuovi 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 Acqua Ne ho una No Come che Si faceva Così Ok Creiamone Una forte Dai Ok Facciamo Per le spade Questa qui P 80 danni Dai colpi Critici E poi Una per l'armatura Questa qui Ok Va bene Eh Decisamente Sono prese Molte libertà Qui Immagino i fan Magari si siano Arrabbiati In Hard School Femina Non li ho mai sentiti Nemmeno io Che Non Sono uno Che Conosce La La storia Bene La lord Di tutto sto mondo Quindi Non credo Esistano Quindi vabbè No Fatemi solo Vedere una Un attimo Ah qui Ci sono sempre Loro No ma forse Mi scordo Sempre Che si può fare Anche così Per capire Prima Allora Si c'è solo questa Di missione Miccia Ed esca E poi ci sono queste qua Si ma queste poi Deciso di Non farle Cioè Faccio a fare Per avere L'attrezzatura Ma Non credo Mi servirà Qualcosa mi dice Che non mi servirà Che siamo comunque Abbastanza forti Quindi Faccio questa Faccio questa Poi come ho detto Bah Un duo Si Dove Due seguaci Al prezzo di uno Ho saputo Che sono molto Eccitabili Ah Ok Eh Aspè Andiamo qui Dov'è Qua E' stato Non è stato Sbloccato Perché non è stato Sbloccato Perché Seregos L'hanno conquistata Per questo Aspetta Facciamo così Allora L'elfa assassina In giro Parlano tutti quanti Di te Tranne quelli che sono morti Ovviamente E il loro numero Sta crescendo Sai che presto Ti unirai a loro Non è vero Sono molto più utile Da vivo Vedi Io risolvo I problemi In questo caso Ti trovo Le reclute Lui è il risolutore Rapporto Dell'esplorazione Il risolutore Ti affronta Informazioni Su un paio Di potenziali Reclute Inrequite Cerca Prima di provare A distruggere La fortezza Di questa regione Che senso Non è cambiato Nulla Adesso Si sono sbloccate Le torri Ah forse Questo Caccia Ighul Ma Eh Ah no È questa Cerca Una coppia Di orchi Legata Dall'ossessione Comune Per gli esplosivi Questa Quella che ho segnato Vabbè Ok Ok Si come stavo Stavo dicendo No si Diciamo Per quanto riguarda Storia Ma non so Non mi sembra Poi così interessante Però Vediamo Fammi vedere Qua Devo scendere Così Ok Fai spod... Ogni orchi Si accontentano Di piccoli piaceri Questi adorano Tutto ciò Che esplode E fa rumore Sfrutta Questa cosa Per attirarli E poi Assicurati La loro fedeltà Fai spodere i barili Per stannare Miccia ed esca Si chiama proprio così Nomi Particolari Allora Posso farlo anche da qui Guarda Eh si Ok Tre Qua ce n'è un altro Olè E Forse lì ce n'è uno Che si intravede Esatto Forse quello Si vede poco Sì è quello Fatto Ok Esca Hai sentito? I don't know Boom Gloriosi Boom Ma chi è stato? Vieni fuori Facciamo un bel po' di Boom insieme Sono il Tariel La lama di Fai dei boom Fantastici Lavoriamo insieme Infatti Potresti servirci Per un progetto Al quale lavoriamo Aiutaci E ti saremo debitori Faremo tanti boom Come potrei mai Rifiutare Un invito Così pieno Di entusiasmo Bene Sì Bene Io e il mio fratello di sangue Abbiamo Un problema Con una cosa Che vive nelle grotte Qui intorno E ecco Ci rovina il divertimento Ogni volta che proviamo Ad aumentare I boom Ecco Che esce E spegne le nostre fiamme Vogliamo Addomesticare La bestia Anzi Facciamo un gioco Chi fa più boom Per riuscirci Ha vinto Eccoci Ricorda Non devi ucciderlo Vogliamo addomesticarlo Partiamo al Boom Vabbè 3,2,1 Boom Strema il graug 3,2,1 Boom Non l'ho preso Mi sa Lascialo avvicinare Ok Non posso Ah devo per forza Colpirlo così Aspetta Facciamo così Se viene qua Ah è pieno di esplosivi In effetti No Vieni vieni Ok Ok Madonna Ha rotto Il barile E non c'ho più Concentrazione Ah Mi ha ucciso Lotta Fino all'ultima opportunità Sì La conosciamo Aspetta E vorrevo Spostarmi Però non mi ha dato Modo Di Farlo Eh vabbè Riprova Riprova No Non pensavo Che dovevo Per forza Magari no Però Ah vabbè Mi fa No Allora Qual è Quello più vicino Oppure lo attiro Ah ecco Andava bene L'ho preso Propriamolo un po' Così Ok Ha preso anche me Facciamo così Ok Madonna Eh È veloce Oh Eh porca vacca Mi ha preso Oh Qua avevo spazio Me ne vado Aspetta Vai Porca vacca Ok Dov'è Là Oh Eh meno male No L'ho preso Mmm Non c'è più nulla Ok Dai Estremato Non servono Ci penso Ok 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 Mi fischano ancora le orecchie Anche se ormai da anni sono quasi sordo Invece la bestia La rivedrai molto presto Ah farà dei Bellissimi boom Sei una di noi Quando ti servirà fare un bel boom Tu diccelo E sappi che non accetteremo un no come risposta Sono Onorata No 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 Noi siamo Onorati Vabbè Una missione parzialmente comica Vabbè Ok Punto a Bictian Voglio andare Sì Sì Allora Sblocchiamo Questa qua che ci rimane Ok Missioni Abbiamo Questa Ok Vediamo dov'è Qua Andiamo qui Eh sì Ho sempre una via Allora Terreno avvelenato Il piano del risolutore è pronto per essere messo in atto Incontrano per coordinare l'attacco alla fortezza di Seregos Una parola Barili Hai ragione Quella è una parola Sono dappertutto Di solito avvelenandone uno fai fuori un paio di orchi Ma se invece userai questo veleno renderai l'intera fortezza Inabitabile Quei globe non dovranno nemmeno berlo Tuttavia Ce n'è uno là dentro che mi deve un favore Devo tirarlo fuori Ci vediamo più tardi Entra nel forte Scopriamo quanto sono efficaci le sue soluzioni Avvelenare Anche perché ce le fornisce Ma non Aspetta Io mi ricordo che avvelenavo così Colpo e no Ok avvelena Esatto A distanza lo avvelenavamo Un altro abominio estirpato da Mordor Un consiglio È meglio che tu ti tenga alla larga dai fumi verdi velenosi Quando avrai contaminato tutti i barili Ogni orco sarà costretto a fuggire O a morire Hai pianificato proprio tutto quanto? Sì eccetto il globe che devo recuperare È troppo sorvegliato Mi farebbe davvero comodo una mano Sempre se ti va Allora sale il prigioniero Appena avvelenare i barili vicino a lui Sì ma qua Posso andare in alto Perché magari non c'è il veleno Eh Diciamo così Allora veleno i barili Vicino alla forza Sale il prigioniero Ehm Diciamo così Ok No teniamo la visione Spettrale Ok Poi Così Il mio amico è morto E comincia ed esca Vengono ad aiutarci Ah è morto Ah ma era a tempo Che ne so Questo è ciò che chiamo Un aiuto Vabbè il tizio suo è morto Pazienza Io stavo facendo altro C'è cose mie Allora dicevo Poi scusa come Forse era perché era lì Era lì da salvare Non so Non ho capito Non fa niente Frega poco Allora Ehm Quello là No Non so Ok Vado un po' più in alto Vediamo Anzi mi sposto E ormai è già morto Cioè Ehm Non ho più la visione spettrale Spettrale perché Aspetta Eh senza bisogno di spettrale Però è un po' più difficile Vederli sti barili Ehm Oh Ok Quello l'ho già avvelenato Quello l'ho già avvelenato Quello pure Mmm Non vedo Non vedo Nuovi barili Da avvelenare Aspetta che mi curo Ah ecco uno qua Ah ma ne manca solo uno No Vicino alla forgia E dov'è la forgia? Aspetta che passi Un attimo Il veleno Vado più su Mi curo Andiamo Ora no Già avvelenato E non li vedo Non vedo L'unico che mi manca Forse è qui Però aspetta Che qua Il veleno Mi sta facendo effetto Forse è quello No 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 Dov'è Dov'è Quell'unico Barili che manca Stai uscendo dall'area missione Oh ho trovato Ma non c'è bisogno Ma lasciate fare a me Madonna Queste cose complicate Siamo come taglio Anzi forse anche meglio Questo che siamo più agili Possiamo seccarli tutti Con le spade Ah eccolo Ma che strano Maledetta Shrack Succede qui Perché c'è veleno Dappertutto Bersaglio debole Gravi danni D'attacchi a distanza Allora Possiamo approfittare Questo però Madonna No 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 Ok Immune alla luce Ho capito Immune alla luce Ok Inchiodato Dai Questo è Il contrattacco Aspetta Aspetta No Oh Ecco Così Che palle Che palle Quelli che Appunto Ti contrattaccano Oh Eh Non riesce a far nulla Oh Vabbè Intanto è morto Ecco Raggiungi la vetta Ottimo lavoro Avvertimi Quando sarai A una distanza Di sicurezza Ho piazzato Degli arcieri Per far esplodere I barili Nessuno Metterà più piede In questa fortezza Vabbè La vetta Qui Ok Ok Siamo in posizione Non mi sembra Ci sia stato Un grande boom Però Vabbè Ok Altra fortezza Strappata All'occhio Infuocato E senza Un esercito Ma il senza Morte Ha la sua Armata E ti toccherà Affrontare Infatti Quello per cui Siamo venuti Alla fine No Eh Volevo dire Allora Qui cosa sblocco Boh A me Già da un po' Che non mi serve Nulla Però Non c'è Non Non saprei Neanche Cosa Cosa Scegliere C'ha Questo E No Facciamo questo Dai Ispira di più Cioè In teoria Questo Tenendo premuto Aspetta Così salto In aria Aspetta Avevo capito Un'altra cosa Senti Avevo lasciato Il primo Ah X Per colpire Infatti Infatti Non avevo letto Che devo premere X Eh Ok Magari Questo può essere Comodo Dai Allora Missioni Ah Ea Nur Nurmen Nurne Come a cavolo Si pronuncia Si Ok Andiamola Allora E qui Qui Allora Devo entrare La prima volta E poi Le torri Si sbloccano Almeno Così è stato Ma cosa Ho perlustrato Ogni angolo Di Mordor Per te Sin da quando Ho sentito Storie Di un'elfa Che bruciava Luminosa Come il sole Non immaginavo Davvero Che fossi Così Così Incantevole Ha pure La coroncina Degli elvi Questo E ora Rinnego Ufficialmente L'oscuro Signore Illucente Signore Chiunque Sia L'occhio Maledetto Che sta In cima A Baradur E prometto Qui E ora Che D'ora In poi Servirò Solo Te Vabbè Un fan Situazione Abbastanza Ridicola Tu guarda Il corpo Crimp L'incantato Si è offerto Volontario Per essere Togliata Del corpo Premi Destra In questo momento Per convocarlo Perché combatta Fedemente Al tuo fianco Quando non Sei individuato Può ordinare La tua guardia Del corpo Deve uccidere Un bersaglio Vicino Mira Un nemico E premi Destra Per mandare La tua guardia Del corpo Ad attaccarlo Gli occhi Soldato Vengono uccisi Subito I capitani Subiranno Dei danni Ma non Saranno Sconfitti Con un colpo Solo Per congere La tua guardia Del corpo Ok destra Va bene Va bene Mappa Devo andare Qui Devo andare Qui E direi Che forse Qua È il punto Più vicino Ok Ecco che Mi sono avvicinato Come un ladro Il reggente Di Nurnen È vulnerabile Uccidilo Per vendicare Shark Burz Vabbè Nomi sempre facili Da pronunciare Per stavolta Verrò con te Io e il reggente Abbiamo un conto In sospeso Ma dobbiamo Essere furtivi Un suo comandante Un tipo ambizioso Ha la chiave Di un ingresso segreto Sul tetto Del torrione Per prima cosa Dobbiamo eliminare Lui Molto bene Seguimi Forza Ok Il comandante Non si fa scattare L'allarme Spera Ok Attenzione Vabbè Tutto Quindi tutto il lavoro Che abbiamo fatto Cioè nel gioco base È stato annullato Mi fa piacere D'avere Speso ore e ore Per nulla Eh Voglio dire C'è C'è qualcuno Nascosto lì Andiamo via Prima che mi vecchi Ok Attenzione Ok Preso Ma sarà vulnerabile Alla furtività Questa L'architetto Ehm Ehm No Voglio marchiare E' l'altro Che non ci riesco Beh Ok Visce gravi danni Degli attacchi furtivi Allora immaginavo Però Vediamo se riusciamo C'è C'è Aspetta Però non l'età C'è gravi danni Ma non l'età lì Vediamo se riesco A inquadrarlo Ok Ma a parte che Non gli ho infritto nulla Però vabbè Che bello Ecco Vabbè Almeno questo Serve va Spezza Un po' le confusie Confuso Aspetta Toh Ecco Confuso Questo è morto E l'architetto E' il migliore in campo Sempre C'è Padrone vendicativo Attenzione Qui Ecco E' il migliore in campo Vabbè Mi ha strappato le braccia Aspetta 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 No eh Non deve scappare Non scapperà Non scapperà Ok 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 C'è un bel barile Qui Ok Boh Morto Ok Prendi la chiave Del comandante Aspetta che ha lasciato Ok Qua Accogli la chiave Ci siamo Quella è la chiave Dell'ingresso sul tetto Ok Sabota le trappe Incendiare Avvelena il grog del reggente Blocca il cane Raggiungi il tetto Aspetta 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 Ho un punto abilità Da spendere Master life Non la ho Non cado di usarla Però Tio rapido Giorno a più potenza Prendiamo questo Ok Eh sì Premo tante volte B Questo qua cos'è? C'è un obiettivo Secondario Qua Distrai Cos'è? Aspetta Aspetta Ah Ci sono le trappole Ok 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 Blocca il cancello Da qui Ma Ora non possono più Arrivare i rinforzi Dall'esterno Ok E' un veleno Il grog del reggente Ok Ok Dai andiamo su Ok Ok Acqua dentro Aspetta Aspetta che mi ricarico Ok Vuoi entrare di nascosto Sconfici Sconfici tutti i nemici Sconfici tutti i nemici sul tetto del torrione Va bene Questo è il veleno Questo è vero che metteva veleno Questo è vero che metteva veleno Ora muori Non puoi scappare E non puoi nasconderti E nemmeno combattere Scommetto E invece no Paura del fuoco Questo Ferito dalla luce Aspetta Cragno soffice Ok Ah porca va che mi ha preso Morto Oh Ok Allora questo mi ha rotto le balle però eh Che mi fa perdere potenza Oh No Ah ho perso potenza Niente Ok C'è pensato lui E vabbè Entra nel torrione Vada ecco Sono ferito sulla trappola Proprio adesso Ok I vermi a difesa di questo posto erano deboli Ucciderli è stato così facile Forse gli altri Saranno un po' più impegnativi Oh non mi sento tanto bene Ti ha dato tutti gli strumenti per conquistare la fortezza E mi hai ringraziato forse No Non l'hai fatto Quindi adesso scoprirai che cosa succede se manchi di gratitudine Ah è inferocito dal veleno Dal veleno Vabbè Ok Non c'è fumo senza arrosto E in questo caso sta arrivando un fumo Che si espande da un arrosto di pelle rosa Sì Cioè dal fuoco Non dal veleno Però la nuve mi sembrava velenosa Vabbè Comunque Aspetta Ma perché? Aspettate un attimo Non Non riesco ad attaccare Mi si è bugato il personaggio Non riesco Eh sì va Siamo invulnerabili Siamo invulnerabili Ok Cosa sta succedendo Non riesco Non riesco a sbloccarmi Vabbè Intanto quello sta morendo È morto Ok Ci ha pensato il risolutore Mi sento bene Non c'è niente di meglio Che pareggiare i conti Ora devo trovare un nuovo globe da odiare Vabbè Non ho fatto nulla Ma vabbè Ok Ok Mi ha dato un po' di roba Perché ho fatto anche gli obiettivi bonus Vediamo No adesso funziona In quel momento In quel momento Vabbè Ok Fa vedere Personaggio Ho due punti abilità Vabbè Guarda Mettiamo questo Anche qui comunque ci danno Un sacco di punti abilità Per prendere un sacco di roba Inventario Un po' come quello che ho fatto prima Facciamo Facciamo Così Così Prendiamo quelle più forti Ok Ok E facciamo Va bene Ma insomma Li costringiamo ad aiutarci Praticamente Almeno con Talion Era così Allora con Talion